Qui e difenderemo queste posizioni dagli attacchi del primo ordine. State allerta, gente! Avanzate! Ti sarò io! Arma in funzione! Precidiamo l'area a bersaglio! Arma in funzione! Arma in funzione! Arma in funzione! Arma in funzione! Arma pesante carica! Arma in funzione! 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 Sono Ray, una mercante di Rottami Sono Ray, una mercante di Rottami Sono Ray, una mercante di Rottami Non mi piace Dai, possiamo farcela Sono Tim troppo gentile con voi Non devono trinzerarsi Avvare il vale per i loro tenti Andiamoci dentro Il secondo può funzionare? Dovremo andare da questa parte Dove siete? Dovremo andare da questa parte 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 Grazie a tutti. Dovremmo provare una cosa. Presto il primo ordine si arrenderà. Teniamo duro un altro po'. Difendiamo l'obiettivo! Ancora un po' e ci siamo. Tra pochissimo la vittoria sarà nostra. Prendiamo l'obiettivo! I nostri alleati sotto a Kodana hanno capito che possono contare sulla protezione della resistenza. Ben fatto!